Un traguardo importantissimo per la Fondazione si arriva a 60 anni addirittura. Sì, questo è uno degli eventi che Italia Nostra offre per festeggiare questo anniversario. Tra l'altro alcune sezioni nostre sono vecchie quanto l'Associazione Nazionale. Anche la nostra è una delle storiche sezioni. Quindi non sottovaluterei poi la presenza oggi di tutti i presidenti delle sezioni toscane. Sono rappresentati sia dai presidenti che da alcuni soci. Quindi è un grande giorno, un grande evento in una sede estremamente prestigiosa. Durante tutta l'onorata carriera della Fondazione quali sono stati alcuni dei progetti di maggior rilievo della Fondazione? Diciamo che ognuno ha a cuore il proprio territorio condividendo sempre i principi che ispirano l'Associazione. E quindi è quasi insito in ogni socio, in ogni attività, prendere spunto da quanto sono stati i padri fondatori dell'Associazione tanti anni fa. Sono valori ancora validi, valori innovativi e oggi sono ancora più importanti. E' importante ricordare in questo mondo difficile in cui i fondi, tra l'altro pubblici, scarseggiano. L'impegno del volontariato, diciamo che il valore più importante in Italia nostra è la passione e l'importanza del volontariato.